Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. È con un certo peso nel cuore che dobbiamo affrontare una notizia dolorosa che ha toccato il cuore dell'industria cinematografica, ci ha lasciato un attore molto amato proprio durante le festività natalizie. La notizia di oggi è davvero grave, un vero pilastro del cinema, un attore ammirato da molti, è scomparso improvvisamente la notte di Natale. È scomparso Camar de los Reyes, un attore portoricano di 56 anni che molti di voi conosceranno per i suoi ruoli distintivi. Ha brillato in film come E. Decel e E. Nixon, e il suo talento ha splenduto in modo particolare nella serie tv e One Life Two Live e come il temibile Raul Menendez in Call of Duty. La perdita di Camar de los Reyes, strappato alla vita nel momento più gioioso dell'anno, è un dolore che condividiamo tutti. Oggi vogliamo onorare la memoria di un artista straordinario, la cui assenza lascia un vuoto immenso.